E' qui all'interno del Baglio San Vincenzo che si svolgerà questa sera la cena casual del Google Camp, la manifestazione che lo scorso anno si è svolta a Sciacca nella piazza Angelo Scandaliato. Quindi dopo aver ammirato i templi di Agrigento, gli ospiti di Google potranno anche ammirare questa struttura, ma anche un altro scorso della provincia di Agrigento. Per scendere nello specifico di cosa rappresenta questa manifestazione, vediamo il servizio di Giovanna Venezia. Immerso nella campagna di Menfi, tra distese di vigneti a soli dieci minuti dal centro del paese belicino, si trova il Baglio San Vincenzo. E' qui che questa sera arriveranno gli ospiti di Google per la serata casual. Ovviamente le telecamere che qui non sono cosa gradita, impossibile spingersi oltre l'ingresso della tenuta di proprietà dell'ingegnere Giovanni Lanzara, che di queste vigne e di queste terre si è innamorato qualche anno fa, ricavandone questo Baglio che stasera accoglierà i VIP che sono presenti al Google Camp 2017. La riservatezza qui verrà maggiormente garantita rispetto allo scorso anno, quando la serata casual di quell'edizione del Google Camp si svolse in piazza Angelo Scandaliato a Sciacca e i selfie che immortalavano i tanti VIP presenti fecero subito il giro del web. Non risulta nella lista degli invitati neanche il sindaco della città Enzolotà. Più discrezione dunque al Baglio San Vincenzo, dove stamattina ci siamo recati e dove al momento l'unica immagine che proviene dall'interno è questo scatto dalla cucina, con molte persone al lavoro che si dicono pronte per il grande evento internazionale di questa sera.